PEGI 18 A mio Dio, sicurezza! Sicurezza! Questa stazione era il tuo laboratorio. L'esperimento è fallito. Possiamo contenerli. Possiamo salvare la Terra. Toccherà a me. So cosa ci attende. Sì, certe persone non capiranno mai ciò che sai fare. Attenzione! Emergenza in tutta la stazione. 5, 4, 3, 2, 1. Possiamo fermare l'invasione. Se non posso salvarli, li porterò tutti con me.